ahah ahahah Guarda che ci sparano, ci sparano hahahah Oh, ho buttati giù però Andiamo, andiamo a fettarci questi. Vabbè, scendi, scendi Ok Pensavo che ne hanno viso un trikant volare What the f*** is that? a chi sparano la gara a voi e la risposta dove fanno dove chiamati però è uno che ha pushato era qui nell'angolo ok no c'è un'altra squadra top la guardano guardano 13 16 16 16 sono scarse andiamo flash flash presto demolito sono da uscire con il portale c'è un po di qua fianco anche ma c'è anche questo la pagina non va dentro in casa a fare me è rotto un cibo di corotto tipo a terra dopo è un attimo c'è un secondo dov'è dov'è è morto eliminato stanno busciando dammi auto dammi auto dammi auto da me da me da l'esame da me l'effetto è rotta dietro il trampolino no dalla fed era uno e paolo piglia il trampolino vino me cazzo life life li ho fatto tipo quanti li ho fatto cinto cento venti guarda giù la top ti è girato mia giubbord da origer è passato da giubbord potete chiamarmi bloodhunt ecco il campione ecco il campione dovete fare anche dopo guarda mi sto ricaricando vado a dare un'occhiata laggiù papappero preparatevi ci muoviamo vado ad esplorare laggiù l'amburatorio amon quanto dureremo dai uno di più è attirare in testa una squadra adesso bisogna perfezionare la tattica del training perchè se ne vorrai dritti in diagonale indietro non in verticale che sa quelli che hanno visto non ci vede per decodare periodsimizio adesso ci facciamo per tutti perché stiamo usando un glitch Quello di sensnelli condiciamo questi strana ci sono introsti in casa c'è sim See l'hospedale potentere la piatta rispondiamo quella vanga veri che è quindi l'angolo dove ero amato il io non vorrei prendere uno strike per copyright effettivamente eh, un problema dei cagnolini season 2 win, una, season 3, 2, season 4, una giocare da 8 che era pure di l'animale? ah ecco, è nero, è un'unica blu è nero sto andando qua a sapete, perché ci sono delle casse in open e un trident trident andiamo a pushare lì sui trident, raga ma vai a fanculo, sti pali di merda se ne avete bisogno qui c'è un caricatore energetico che mi hai rubato? da casa? sono arrivato no, altro gioco qua no, questa casa è perfetta la tua riconoscenza è dono gradito si, si, a te arrivi proprio sei così di loro sto controllando i dintor, qui c'è un accelerante ultimate porca di quella puttana c'è un flatline con venticolpi cos'è? vuoi da me? arrivo arrivo, sto pigliendo il mastiff flatline, il mastiff si vuole che è flatline? scusate non so parlare ma porco pitfire no qui ci sono munizioni energetiche tanto prima mentre li pushavamo ho messo il trampolino sul tuo cazzo di coso e... ma no ho messo il trampolino sul tuo coso in verticale chi fosse, ha bugato il gioco potrebbe farmi fuoco non capirà più cosa fare il gioco c'ho 55 colpi nello speedfire let's go allora, dove vogliamo andare? dove vogliamo decollare? elisium? c'era un dint da qualche parte let's go ma tiriamo di là invece alle altre gemelle da questo, guarda da qua da qua andiamo da questa parte qualcuno è passato di qui allora, l'angolazione giusta devi prenderlo da quella discesa qua in questa diagonale qua qui c'è un calcio standard livello 1 no oh sto subendo danni mi sto corando qualcuno è passato di qui ho qualche scorta extra eh, devo guidarlo io però non lo sto guidando aspetta eh, non sto guidando vai prende le scale, no? andi però più poca luce sembra che siamo nel prossimo anello attenzione controlliamo da questa parte rimane in metà delle squadre dovremmo giocare con 3 diamante 3 che bello let's go scaldi i motori scaldi i motori le gare figa bisogna fare col trailer no ma perché vuole cielo ma se è l'unica angolazione in cui puoi mettere il trampolino così puoi anche magari metterlo abiliranno il trampolino per colpa vostra vedrai ma io posso prenderlo allo senso oh no oddio no aspetta puoi farlo anche senza bus stai su stai su stai su è tutto a posto fratelli tu stai su a posto aria puoi farlo anche senza bus qua c'è un drago hai vinto oltreppo uno vieni eh si oh cristo no sono sopra di me qui ci sono munizioni energetiche è one è rotta viena me viena me viena me sono qua da me due qui ci sono munizioni pesanti grazie in due lui è morto si è messi male oddio non l'ho vista oddio ah non posso un tour party tra l'altro bravo qui c'è una cassula assistenza qui c'è un crader era muoio ne ho bisogno no ok raga abbiamo perfezionato la tattica cioè non devi buttare no cioè ho suonato zitto non un malefica sono finito con il senso non lo faccio male come chiesa ahahahahahahaha perché si è pienso che ci sono visti mi entrava dentro in cielo e poi mi registraria i gail sono sotto te me lo scoppiamo mo ma non c'è uno dei più ma si può ma si può non ha tirato una super gibo sceglie il personaggio e non usa l'abilità io non capisco la senso di sto gioco scegliere personaggio non usa le abilità come riscaldamento è stata una merda speriamo che in classificata sia meglio il nuovo metà è il nuovo metà è octane quel trampolino basta che sei il third party come scappi? sei lì a giardini cazzo finisci a bonsai delle scream paolo ma è buono eh ma un escape della madonna ma guarda che questo sia un glitch 13k su gibo ok ah se ti sparano però oddio tanto non perdi tanta vita come cazzo fanno sparare tu non hai visto come cazzo voglia no? cioè decolli cazzo perdi io sempre un tryden sei rosso eh no 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 non l'hai visto si l'ho visto queste gambe non sono fatte per camminare non so se rende cioè sei sempre un tryden grande eh ma il gamer non sono dalla parte giusta però nooo non sono dalla parte giusta eh no 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 mi devo andiamo ammazzare subito non devo prendere i fatti i cazzi vostri mi ha chiesto niente a nessuno ma ci contestano seri? che tenero baba bufoni e cazzo bella la chiami arma da fuori i teneri ma questo c'ho il libero? vabbè allora allora me la gioco questo qua questo qua questo perfetto enemy 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 everywhere 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 prendeteli da partito questo qua? non è che scoccolsi non è una cosa? non è una cosa? non è una cosa? Allora Abbattuto Tutto di su Posso Dai pia il trailer Ci vuole Posso Ola Devi sparare Devi sparare No vabbè Ma sei rincoglionito Eh vabbè Questo muore Questo muore Allora Questo muore Che ricoglionito Questo muore Mi spara uno col triple take Mi spara uno col triple take Ok Non bisogna gustare Una cosa è certa Incredibile Mi spara sto qua col triple take Io stavo curando Questo qua mi guarda Invece di guardare Il nemico sparai Che affidabilità C'è quel tubo Non è detto Let's go Che affidabilità No no Non lo prenderà mai Perché sto Ma ragazzi Siamo da A mondo 6 7 Sono di 50 7 78 Tutti prendiamo decisioni Sbagliate Ma pulire Devi riuscire al trident Sopra La morte È dove mi sento più Vabbè No Cosa fai Quando guardi le case dall'alto Tutto cambia Dovreste provarci anche voi No dai Legale Sì ma un glitch Tipo Vabbè cosa vuol dire Raga ho un altro trampolino Tanto non ti posso neanche segnalare Sto cazzo di gioco Era messo mai questo trampolino qua sotto Nell'angolino Adesso ci vanno Vagli a camere Dovremmo spostarci laggiù Dove è carico Eh non può Scusa Non posso fare Ma perché non ho lanciato tutti in mezzo a sta mappa Ma che ball Simpatico come Come una cozza Forza di usati Eeeh Paolo Calmati Respira Eh Pucca troia Col busto anche lì Ma sta bene Cioè vabbè ho capito Che cazzo Cioè C'è qualcuno Ha battuto un nemico C'ho ancora C'ho ancora C'ho ancora Tappolino C'è Il tempo che lo fai Che a ferri What? Tra prima E adesso Abbiamo fatto 1600 Ma siamo seri? Stai a diventare Stupido C'è un altro E un altro Vuoto C'ho un troppo Ma la gente è tutto questo invece Che ha fatto il metà Ma non c'è un pezzino Questo Speriamo indietro E ma Sponano tutti alla fine E liberate Ciao ciao Imbecilli Questa con un massimo Ho sparato Due colpi Distrutti Sottocontrollo Oh cristo Becca Becca Come non è il shield Eh seguiti qui Della Della raid Ditemi quando devo aprire Aprile Appena ce l'hai Cioè Vai 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 Io ti posso dare Quattro shieldini Ti do quattro shieldini Vieni vieni No Baluna No no Ce li facciamo Non stop Sto ricaricando gli scudi Sempre torna a prendere un Krabber Wotso Non ho già pensato Sto giocando le screen Quello Magari si stanno allenando Eh c'è un G7 C'è un cecchino qua C'è un center Perfetto Non vi sentite? Eh magari si stanno allenando Mi serve della salute Allora ho preso un TP Sì Vieni 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 Ciao Vieni 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 Sto posto per i cecchini Ho portato un Fletch Non c'è un Merino per cecchino Cazzo Non lo Un po' cazzo Siamo in un posto dei cecchini Oh dietro di me Dietro di me Dietro di me Sono arrivati io Un'altra squadra Sì Sono top Io sono top Venite top Venite top C'è un Cripto O là sopra Qualcuno ha passato di qui di recente No c'è ancora uno di qui sopra Da me da me da me da me Dove cazzo siete porno Dove cazzo sei qui 20 minuti che vi chiamo che sono top Eh vabbè Non ha missato Non ha missato con la Wingo in questa Sto controllando l'aria Contatto Gli altri che stanno giocando con Wazzo Perché siamo qui Perché siamo qui C'è anche un'altra squadra con il Lombo da una parte opposta C'è un caustic Ok caustic Vabbè sei serio In mezz'ora ti chiamavo top Poi al consiglio lo da solo Vedete che fenne Sì Vedete che fenne Vedete In culo Sto controllando l'aria Credo nel padre di tutti i bambini Ho stabilito un corso Ok Cazzo Cazzo Lo toccate i pari con un rato Se vuoi rifiare voi Concedimi la vista No No La metteresse ci dirà A parte mentre si può legge Ha Ave se si può rimastere su quello Come Non so, non so Spero che è sgrammissimo, ragazzi, qualcosa Cioè, il problema è che devi giocare con... Devi giocare con... ...Quote in ranked, insomma Ma uno è finito giù 18? Grande, Eurision Questo è il comodo Che evento era questo? Che evento era C'ha anche la skin di rampa Particamente tutti gli eventi sono così Mamma mia Mi socio Mi socio Minchia stavo per uccidere una Porco dio è scappata Eh la giata armita Mi socio Hai capito Io rispondo le orecchie Lui sta parlando fino ad ora Io rispondo le orecchie Eh signore Non mi piace Sfondo le orecchie Muntiamo Io prendo questa casa qui Guarda Perfetto Ehi sta arrivando un'altra squadra Contatto stabilito Contatto stabilito Un nemico si Uno dei loro laggiù Io volevo prendere questa casa qui No Però è l'unica casa qui Non ho paura Sono io la nuova leader uccisione Potrei farmela addosso dall'emozione L'ho comprato questo Mamma mia No con una posta Con una posta Che bellissimo questa coltella Ti si è preso Ti si è preso Octane Ah Vabbè scelta sua Mi sembra che mi cambiare l'albero No no non dico niente Io ho scelta sua Non dico niente No non credo Octane Con un'unica l'unica ho trovato Non credo già Non credo già Non credo è bambinato Sì Sono finiti Sono uccisi tutti Ma vedete Saluta per vendire in dio Ma perché sei sempre delle persone sopra? Oh io non mi capisco Aiaia Una legna clamorosa E sono preso a qualche secondo Sparano E hanno una buona mira Cala il separito Da questa parte Andiamo Sto curando le mie ferite Ma sto curando Ricarico gli sfidi Ma le cazzo è quello vero Dio mi ha bambusolato questo Mamma mia Dimmi che è mira Se non gli fa Lasciamo stare Ma comunque qualcosa di serio Mi ha bambusolato questo Mi ha bambusolato questo E i punti come li faccio Giocando con i random Dai Lascia stare E va per dio Non c'è i miei problemi Proviamo Proviamo di non morire Sì 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 Facciamo recupero il bambino Sì Non è visto Sì 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 Noi Non è franco forte Non è franco forte Non è franco forte Che l'altro andata a vedere Sì 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 No, l'ho mancata! No, l'ho mancata sta puttana! Non ci credo! Ti mutano per un volo assurdo! Mutami, mutami! Problemi zero! Microfono in gola e si urla no, l'ho mancata! Microfono in gola o no? E niente, mutiamo anche Rubik! Ma che cazzo di problemi hai, per Dio! Voglio dire Void, faccio il TP out! Vai! Ho mancato a sbagliare, ho mancato a sbagliare! Questo non è proprio quella cosa da dire! No! Wow! Ma che macete! Pima! 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 Sono più preparato di quanto... Stefano Kill Pro! Sì, ecco, è la partita in cui mi spawni... Trovi il livello 3! Trovi il fight! Sì, ecco la partita in cui mi spawni! Trovi il 5! Ti puo! non si può passare il microfono oltre un 100 tos abbassare il microfono chrispiss c'è un mood lì da aprire c'è un body chill nella casa a sinistra blu blu che cazzo stiamo andando a luci solo per tricciare il viola prendete il blu, prendete il viola è condituato che scelta del cazzo che scelta del cazzo che scelta del cazzo la forza del vento ci porterà da lì fuori questo è il bancario zoom guarda a sinistra guarda a sinistra c'è qualcosa da questa parte il cazzo stanno andando c'è una grande distanza tra noi qui c'è un'ottica distanza ravvicinata sorveglio il cielo sto controllando l'area qui c'è uno scudo evo qui c'è uno zaino livello 2 esco dal drone sto tornando dipline 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 ragà mi stanno sparando a posto a posto dio buono trappola posizionata attenderò paziente qui c'è uno zaino livello 2 qui c'è un rs101 sto ritirando il drone qui c'è un caricatore livello 1 sto controllando mi spara dal mi spara dal basso non parlo perché ha fatto una cazzata però mi spara dal basso quindi no piccato si lo so perché perché praticamente la quella che era sopra non pensavo di piccarsi e quello che era sotto blowdown era era in open restano 30 secondi siamo vicini ma non è mai ripicato qui c'è un'ottica medio raggio siamo vicini alla padre di tutti gli dei concedimi la vista qui c'è un opap che è pure tra attenzione anelli spostiamoci qui usate la mappa come guida l'anello si sta muovendo sto cercando un caricatore energetico esteso qui c'è uno scudo evo livello 2 e quanti cazzo di fladelang ci sono buono bello carico pronto per saltare vediamo i miei compagni come sono meshi un'altra variabile per le cavie da laboratorio trappola posizionata attenderò paziente trappolo gli ho segnalato lì sono finito un po' sto ricaricando gli scudi io c'ho questa vado in vado in vado in transagonistica non capisco cosa ricarico gli scudi variabile player ruby attenderò paziente sorviglio il cielo ricarico gli scudi ditemelo se sto andando qui ditemelo se si si sto arrivando sto arrivando si 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 sono qua sono stato alto a posto la casa qui ci riveste sopra esco dal drone dammi un'arma sto ritirando il drone come ho fatto non c'è di che ho trovato un caricatore lì sotto no stanno restando stanno restando stanno restando si non c'è di che ma si tracca con una mozza non c'è 300 direi pure servono eh perfora cranio due perfora cranio codemonio eeeh eeeh ammizzato tutto fare le robe veloci eeeh fare le robe veloci eeeh no 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 e quando faccio la roba veloce quando faccio la roba veloce quando faccio la roba veloce ci penso a quello che faccio perché no se non ci penso sei quasi peggio di wait sei quasi peggio di wait qui c'è un calcio standard livello 2 ah avevo l'hammer point ecco perché ho fatto 100 i 4 avevo l'hammer point a lento non me ne rendo conto spamo quadrato sto cercando del bottino lì ho una mozza e un M block senza colpi l'ho preso l'ho preso arrivo 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 se prendo il trident faccio troppo casino arrivo col trident faccio troppo casino presto il titolo sarà mio round 2 inizio controllo eeeh siamo già nell'anello ho avventato un soggetto proprio qui eeeh replicatore in arrivo qui c'è una cassa della morte mi connetto all'occhio del cielo eeeh tutta morta qui dove sono io bersaglio avvistato qui ha detto right che c'è qui sta millando dove siete voi? sta millando gioco il dio in il mio cervello padre di tutti i dei concedimi la vista aggiungo una variabile credo nel padre di tutti i dei attenzione variabile aggiunta non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è mi stanno sparando mi stanno sparando falte un bel respiro ma mia visione è chiara il nemico a terra ricarico c'è non c'è non c'è non c'è ma c'è non c'è niente faccio un portale o dobbiamo prenderla a te sto bene mi sto solo curando qui c'è una batteria scudo rota 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 Ryzen tony dov'è no stannato dal cristo manca uno no no manca uno manca uno no 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 qui c'è un trasmettitore di rilevamento siamo già nell'anello inteso il campione è stato forse di rilevamento attenzione controllate la mappa ho individuato il prossimo anello killed co demonio cazzo l'assistenza in arrivo Siamo in una delle due 140 160 Eh cazzo Mi sa proprio... Sì Sì, sì, no Soltanamente Perché la mincella dove ci chiude? Eh beh c'è bugato Ma che cazzo fa? Poi stai guardando o... Non c'è Non c'è Sì, sì, non c'è Eh? La lancia con pure la sigaretta è buona poi Ah, ok Sempre qualcosa in bocca eh Annaggia Eh, maliziosi Sì, bene Ho avvistato un nemico laggiù Mi servono munizioni energetiche Esco dal drone Sta In guardia C'è un nemico Capito Ok Quanto ti danno? Ok Ok Quanto ti danno? Ok Ok Che cazzo? Capito Qualcuno è passato di... Bombi così Uh, one enemy Sì Viene lo giugo Un'altra variabile per le cavie da laboratorio Sto controllando interoordo Un risultato approved no nooo stavo ricaricando che palla in due ci hanno scopato in due dio cane caustic di figa terra terra sei lento perché ti sei rotto una gamba vieni te la sistemo io anche le granate morto o meno anche tu devi ammettere che sono un fenomeno morto o meno sei lento perché ti sei morto o meno anche tu devi ammettere che sono un fenomeno che palle cazzo lino è croix il fratello è francesco eh l'ho già fatto il tp è marzo però l'ho già fatto ma in realtà non serve c'è una ziplank che taglia lì a metà la fine è già decisa credetemi non riesco a fermarmi e non lo farò mi piace divertirmi un po' e allora aaaah il... cosa? eh... no no c'è una coccinella sul mo ecco il campione volevo solo salutare i miei fan come ve la passate? morco dio dai videogame tutto bene? dov'è? dov'è? visto che... cosa credete ci sia qui? cosa cosa hai fatto? come c'è arrivo io di tanto? oh cosa mi uccidono ora dai basta dopo la salvo la clip c'è tutto imbarazzante il prossimo anello non è vicino prima di te adesso sei che si ragiona andiamo a qualcuno servono munizioni energetiche? qui c'è uno zaino qui c'è uno scudo Evo livello 2 io ho conto di ricongiungermi qui ci sono munizioni pesanti qui c'è un calcio standard livello 2 mi servono munizioni leggere allora sono qua se ti resto muori ma no c'è pieno di ti resto qua e via qui c'è un caricatore pesante steso no vengo qua c'è gente negando 3 qua c'è pieno di gente qua c'è c'è c'è� c'è l'amico individuato uminino non lo scappa, una conda reale oh mamma, quella schifosa una conda reale, un po' forte ho sbagliato hai distratto la cucina sul nemico ma non vuoi uscire? drogami i punti, ti prego mi stanno sparando non supera la notte la batteria dei dei però di base nooo, se il dice è il mondo sotto attacco ricarico gli scudi ho salvato la clip di quelli che mi sono passati di piano questo è stato l'occasione ah ecco chi è? sono a cucinare è per quello ho salvato a prima la cucinare mi faccio una mila di fastidio io pago l'affitto di questa casa vedo se no c'è una torre di lancio qui un campione è caduto l'anello si sta chiudendo mi piace potrebbe esserci qualcosa di interessante lì mi stanno sparando io ho individuato il prossimo seguite la mappa carico gli scudi sono proprio capaci di sparare la mappa siamo bene la in mano la noi carico demonio una cobra reale cobra Kai qui c'è un otturatore per shotgun livello 3 attenzione ci serve più adrenalina ora attacco cazzo dove attaccare sebbene neanche dove sono andati sto sorvegliando quel settore non so neanche dove sono i nemici questo attacco qui c'è un kit fenice mi servono degli scudi ho trovato un caricatore energetico esteso qui livello 3 ehi c'è un condotto basico qua giù scusa amico no dietro 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 che coglione dietro 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 manten 그런 dietro 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 le si ショare a tinguzione � Packback 2 3 Conda Andiamo qui, amigos. Ho gli occhialini puntati su quell'area. Andiamo da questa parte. Andiamo l'occhio da lasciare l'inferno. Non si vede con me? Donami la vista. Che testa di cazzo. Sto curioso di quello che cazzo state facendo. Oh, dietro di me la botta. Sto combattendo il nemico. Contatto con bersaglio. Nemici avvistati laggiù. Ricarico. Contatto con nemico. Ma perché siamo finiti sto merda di cesso? Questo è un water. Questo posto è un fottuto water. Ma proprio detto anche in modo gentile. Sto arrestando. Vai, fai. Una casa dentro di voi? C'è una torre di lancio qui. Metà eliminate e metà... Lui fa sopra destra. Qui c'è un trasmettitore di rientro portatile. Nemico individuato. Ho avvistato qualcuno laggiù. Diamo un'occhiata laggiù. Staccato il nembo. Andiamo qui. Qui batonna. Peccato boss. Peccato. Possiamo stare dintrè a GG. Possiamo dare un'occhiata qui? Mamma mia. Possiamo stare dintrè a GG. Guarda di... No, un po' di ora non stai. Perché normalmente... Perché normalmente... Perché normalmente stai non ha audio. Cosa credete ci sia qui? Sì, ma andiamo chissà dove. Perché vuoi si guardano che cazzo gli è paura. Questa sensazione è lì con qualunque altra leggenda. Adesso non puoi restare. Mi sento una minchia. Mi sento una minchia. Eh sì, sì, ci sono. Non sento mai una minchia quando gioco solo perché ci devo che parlate. Secondo loro io faccio casino e parlo troppo. Possiamo dare un'occhiata qui. Ma dove cazzo vanno? Sì, sì. Ma quindi non ci siamo qualificati, no? Carico gli scudi. Oh, non lo so perché ho visto su Instagram. Sì, mi sembra di sì. Dell'arag. Oh! Oppi, non hai visto? Qui c'è quella. Ma tu non hai visto... Azi, la mia robina se non hai vista ma... Mamma mia. Per forza da Ghost. Ho visto che eri leader. No, vabbè, ma per te quello. Ah, quando Polo è. Fermo in un angolo. Mi sono proprio veramente minchia. Però è minchia. Poi dopo sono mezzo scappato dalle squadre che nella casa in cui erano al finale. Mi ha sbiammato una conda reale. Non penso che sia minchia. Ti sono una conda reale. Eh, Axel? Eh, no. Perché non? Perché non? Ah. Sì, perché hai preso il volo? Andiamo qui, amigos! Lancio il tramite! No, no, startate, startate, tranquilli, tranquilli. Andiamo qui! Mi è cominciata la partita. Mi annoio. Ora movimento un folico. Un secondo, mi sto curando. Mi ti avvicati in lontananza. Sembrano piccoli puccaraggias. Fuoco! E tutto è... Sto lo spazio! Ho visto il voce uno. Sto controllando il voce uno. C'è qualcuno laggiù! Sì, è che una L9 mette sempre, no? E ora attività! Ah, sì, sì. Ricarico! Ricarico gli scuti. Devo darmi una sistemata. Uso un kit fenice. Sì, sì. Non ci si può drogare. Eh, questo cazzo di cosa che mi devo ritirare... Intorno alle 10. Più delle 10. Abbiamo compagnia! No, 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 no. Mi stanno sparando! È l'ora dei cloni! No, 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 no. Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scuti. Sto controllando l'aria. Nemico vicino. Mi stanno sparando! Ricarico. Caricogli. Sono sotto attacco. Ricarico. Sto ricaricando gli scuoli. Attenzione. Anello in movimento. Abbiamo il vantaggio. Carico. Siamo qui. Nemico proprio qui. Quella capsula assistenza. Devo rimettermi. Sto controllando l'area. Ah, ok. Ah, espulsione. Seggiolino è iettabile. È ora di andare. Ci sarò dei gringos da giù. Mi servono degli scudi. Ricarico gli scudi. Vado. Ricarico. Fuori tre. Bell'amore. Padre di tutti i dei, concedimi il rischio. Fuoco. Ricarico gli scudi. Non lo sapremo mai. Qui sta il direttivo. E' sovrirla. Eccone uno. Siamo qui. Sto combattendo il nemico. Sto combattendo il nemico. Ma che fai? Ah, ma no. Sto combattendo il generale di dei campi. Ehm, mi spara. Ma vai, affanculo! Ah, ma io voglio fare. Io, cane! Devo fare... Ehm... Tutti i geni. Positivo ma pochi punti, cazzo. Sempre positivo ma pochi punti. Sì, voglio giocare in squadra da tre. E non propormi quello che stai pensando. Perché ti dico già di no. AXL è appena finito. Siete in... Assolutamente d'accordo. Però visto che non c'è sempre. E infe finisco con questa. Dai, vai. Sento, cioè, due mesi. Eh no, l'altar è in crescita tra tanti per dieci giorni. Ah sì? Vabbè, la settimana prossima... Parco Dio, sono in ferie. Quindi ciao, ti spari, pula, c'è la sua. No, sono in crescita con migrazione. Quindi... Cioè... Tra dieci giorni, eh? Il diamante. Ce la potrei fare. Ma sei messo adesso come rank? Con un platino 3. Quasi... Un platino 3, quasi platino 2. Poi devi giocare un po' allora con... No, più che altro... Più che altro dovrei prendere un po' di... Self confidence e giocare da solo, no? Quando sono da solo. Però faccio una partita e magari puoi la perdere e dico che cazzo sto facendo. Eh sì, non devi... No, questa è un'identità. Ma poi più che altro, magari prendendo bloodhound, sotto i nemici, agli alleati magari si svegliano un'ottimina di più. Aiuta tanto bloodhound. Non hai fatto di prendere gli assist, aiuta tanto. Sapere dove sono i nemici cosa fanno, aiuta molto. Effettivamente potrei prendere bloodhound, ragazzi. Proprio in giunti stamp. Non è per niente male. Anche la super è molto veloce. Sei veloce, sei rapido. Sì, no. Di bianco e nero. Guarda che cogliona quella, guarda, guarda che cogliona quella. Scendi rincoglionita. A posto. Buttana di tua madre zoccola che non è altro. Scendi. Perché io le sentivo così mi sapevo di sentire Aldo in Aldo Giovanni e Giacomo. Perché? Questa cattiveria perché? Che cazzo, porco Dio. Ecco, a posto. Oddio. Gente rincoglionita che ci gioco questo cazzo di gioco. Va bene, ci sono. Se state giocando o no? Va bene, va bene, tranquilli. Tranchi. 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 Intanto io ti vuoi. Allora, va ti... Allora, mi è muto, poi mi mandi un messaggio. Anche ci sono? Adesso ci siamo. Allora... Allora... Stricetta di... Di... Chiappacolore. Di merda. No, ma è mutata Ah, chi appa colore Funzia sempre Mettetelo sempre a chi appa colore Ah, vuoi giocare con... Ah, grazie Ah, no, l'ho capito Tra, tra, tra Ah, inferno Start, start Se non me vuoi, basta che me lo dici Ah, ma no No, no, si vanno... No, 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 no Queste lobby sono strane Siamo in due Meglio, non perdiamo punti Perché devo un po' Mi sembra di vivere la stessa partita Potete chiamarmi bloodhawk Che, infatti Quelli che ho trovato fino ad ora Sanno sparare, sanno benissi Però la vedo di Sono così assentati di kill Vanno morirci Sì, sì, sì Prima Possessionati, figlio Assolutamente Non è come una morte Possiamo muoversi, sanno sparare Perché le gente le buttiamo a terra Però, infatti, spari, spari La porti le gente Quindi, dopo due o tre colpi Figa, arriva il mondo Oh, le andiamo subito Lanciate la polvere Tutti pronti, ci lanciamo Vai, dove ti portano due ore Bangalore? Sì, sì Servono operatori rapidi Rapidi e cattivi Ti occupo Ah, sì, li ho preso Bello Dentro una casa C'è tutti gli accessori Ma non c'è un'arma Ah, no? Tutti gli accessori ci sono Ma neanche un'arma Anche un'altra C'è uno zaino Un altro zaino Ma c'era qualcuno Perché non ho guardato Ah, bu Ma che te frega Siamo noi quel qualcuno Let's go In tutto questo Un'ampi 20-20 Ce l'ho, grazie Asposto Un'ampi 20 Di l'arri Di l'arri Andiamo giù Troviamo gente Non c'è nessuno Ah, infatti, scendo su Sarà mille team Vabbè, luttiamo con calma Poi in Luttiamo a cercarci Una fight Easy Andiamo verso l'operatore Sì, sono pericolosi Che hanno visto L'alaboratori Qual è? Giardini? No, no, l'alaboratori No, no, no È fatti Non È fatti Eletrico Attenzione al nuovo Lidero Uccisioni Sto controllando L'aria Qui c'è un caricatore pesante Steso Mio, mio Perzi Ego, già ce l'ho Rimane un minuto L'anello è vicino Eh, vabbè Lo togliere l'alabor Cazzo Non volta due Non lascio C'è un labor C'è un caricatore Che cazzo No, le ragazze sono C'è un'opinione Servono munizioni pesanti Meno di un minuto L'anello non è lontano L'anello non è lontano L'anello non è lontano Qui c'è un otturatore Per shotgun Qui c'è un caricatore Pesante steso Livello 3 Tutto mio Attenzione C'è un nuovo Non è male Attenzione Nuovo leader Uccisioni Non era fake Magari è fake Lo chiamano Siamo vicini All'anello Qui c'è un caricatore Pesante steso Livello 3 Lo togliere l'alabor Cazzo Chia, a quanto pare Sono tutti io L'anello Battery L'anello si sta muovendo Qui c'è un Mastiff Mamma mia Orrendo Dobbiamo cercarci uno Fai troppo Vabbè mi lo zaino Arrivo Vabbè mi lo zaino Mi faccio uno zaino Se si sbriga Sto perso Una age Capsula assistenza in arrivo Capsula assistenza in arrivo Andate pure Ma non ha passato La borsa Qualcuno ha fatto scendere la capsula Ciao Stichetto Dove sono Dove? La Vedere il fu Controlliamo Va beh Aspettiamo Wayne safe Magari Oh no Pusciamo Siamo in due Andiamo Bucket Sempre Un po' di team Fight Ciao 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 Virginio Vabbè C'è un Botto I team che sparano filtri sto posto il classico posto frammento 2.0 e genia e neanche un cazzo di r99 sto controllando e io io in trombina però hanno già luttato in trombina loro vieni a scendere l'attaccia vuoto dobbiamo romperla ok andiamo? si andiamo giù stavo atterrando sul cosmo non sbaglio eh dai un pugno e via si io prendo da qui e vai dalla porta ok ok qui mi ci devo spottare no no che cazzo stanno questo qui c'è una scatola di cidoro gli dei ci favoriscono è iniziata la partita finito di fai cosa è la coda? ecco lì si tracciano di tre due nemici mi prendo una mira uno è viola 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 20-40 traccato avanzo io non c'è problema non c'è problema non c'è problema non c'è problema sto lanciando una stella arc ma gira a destra qua gira a destra qua avanza 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 traccato uno quasi sotto a terra dai inf sotto te la fai te la fai te la fai te la fai sei scesa ricarico il tuo tempo non è ancora finito che arriva eh via via fumo 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 sono morto attenzione applicatore rido ma what sta sparando un cuore sto controllando i dintorni stanno sparando stanno sparando stanno sparando non cazzo sto ricaricando letteralmente ha fatto uno vieni 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 ricarico qui è stato vero non c'è fai sei oh bravo inf c'è c'è un'altra squadra qui sopra ricarico adesso non è un problema è un grosso problema è un grosso problema è anche un grosso problema vabbè scappa 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 adesso punto si 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 scappa scappa sento solo una persona però è meglio che te la fili è un grosso 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 se vuoi muoio ti lascio il kit fenice faccio una pausa devo darmi una sistemata un minuto ci sta curando odio 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 lo vedi? è qua sopra lo sento contatto con bersaglio guardate devo provare a curarmi puoi trovare però vedi tu arriva un altro ci penso io il tre Guadero no verticolo tanti che aquí i citi arriva arriva il tonico e vi fa Pala Mira amico bella mira mamma mia manciate la polvere g absolute c'è USP una granata che schifo vabbè zero punti io non li ho visti soltanto visti solo ora non mi ho visti con usciti tutte le volte che sono usciti un pathfinder? un po' meno lo vedo questa matta cazzo l'abbia che fa Prendiamoci questa vittoria. Andiamo, uccidiamo e prendiamoci la vittoria. Ecco il campione. Oggi sono qui, andiamo. Oggi sono qui, domani si vedrà. Oggi sono qui. 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 Oggi è qui. è qui. è qui. è qui. è qui. è qui. qui. ok. ok. sto. sto. con. con. e. ragazzi. . 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